Qui Radio Londra, Aldo dice 26x1, supponiamo che ci vacciniamo tutti, 60 milioni di abitanti della nazione Italia, facciamo questo sforzo di immaginazione e immaginiamo il peggiore degli scenari dal mio punto di vista, umile. Questi criminali al governo che calpestano la Costituzione ogni giorno e che per ogni calpestio mi danno una coltellata del cuore a me che discendo da qualcuno che ha dato il suo sangue per farla quella Costituzione, a questa gente che calpesta tutti i giorni la Convenzione di Oviedo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che, ripeto, tutti questi tre pezzi di carta si fondano sulle fosse comuni dei lager nelle quali appunto c'è il mio DNA, il mio sangue. Ma torniamo al punto, supponiamo che questi scialtroni aggirando la Costituzione, così come hanno fatto con le mascherine, mi impongano, così come mi impongono la mascherina per andare al supermercato, mi impongano il vaccino. D'accordo? Bene. Devono vaccinare 60 milioni di persone. Da qui a quando vaccineranno 60 milioni di persone. Non voglio entrare nel merito tecnico del vaccino. Io sono qui per parlarvi da Radio Londra in termini politici. Allora, d'accordo, ci vorrà del tempo. Prima che prendano la pera di Stato e la iniettino a 60 milioni di persone. Bene. Crediamo davvero che quando saremo tutti quanti vaccinati, compresi cani, gatti, uccellini, galline, vacche, conigli, andrà tutto bene? Tornerà tutto alla normalità? Ma quale normalità? Quella di prima, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo? Pochissimi ricchi e tantissimi comunque miseri? Peones? No, guardate. Il tempo che dovrà essere impiegato per vaccinare 60 milioni, organizzato da questi cialtroni, che sono gli stessi che hanno organizzato la cura del Covid a Bergamo, ricordatevelo, cosa hanno già fatto questi signori? Richiederà del tempo. Nel frattempo, che loro continuino a impedire i licenziamenti con una legge, le aziende falliscono. Siccome io un po' di esperienza ce l'ho, vi dico guardate che in seguito a un fallimento, prima che i lavoratori prendano dei soldi, prima che i fornitori prendano dei soldi, ne passa del tempo. Due anni minimo? Bene, andiamo avanti. Questi vaccinano 60 milioni di persone. Nel frattempo scorre il tempo, scorre l'economia, va distrutta. A quel punto ci sarà la centesima scimmia, che non è la centesima scimmia delle cazzate che spiega la New Age, no? A quel punto la povertà, il livello di povertà che avremo raggiunto in questo paese? Oh, finalmente il sovvertimento! Perché fino a che tutti quanti noi abbiamo nel frigo da mangiare? Abbiamo quei due spiccioli persino per andare a fare la colazione al bar rispettando tutti i criteri, dei crismi nella loro santa madonna di epidemia? Va tutto bene, no? Finché il pensionato prende la pensione, il dipendente pubblico prende lo stipendio, quell'altro che è in reddito di cittadinanza si prende i due spiccioli, i bonus vengono, arrivano i bonus quando ti compri la bicicletta e il triciclo. D'accordo, ma tutto questo non è in eterno. Perciò il sovvertimento, la rivoluzione, l'incazzatura dei poveri è certa, è certa come una freccia puntata al suolo. Se tu prendi un arco e spari con una freccia al suolo, la freccia va lì, non va da qualche altra parte. Non c'è bisogno di una sfera magica, non c'è bisogno di avere una laurea in scienze politiche, non c'è bisogno di avere una laurea in economia, basta il semplice buonsenso che ho io un'umile casalinga. Terza media, signori. Due anni di superiori, tutto il resto, università della vita, esami della vita, cento e lode conseguiti ad ogni esame a cui mi ha sottoposto la vita e la vita sta continuando pure a esaminarmi. Non riuscirò mai a dare la tesi finale, forse la tesi finale sarà la morte. Non voglio divagare, torniamo a bomba. Quindi ci sono degli scenari che ci aspettano in maniera inevitabile, d'accordo? A questa questione economica ne va aggiunta una seconda sulla quale non ce ne stanno parlando. Solo pochissime persone che amano studiare l'astrofisica si stanno interessando a questo tema che si chiama minimo solare. Sto lavorando ai fianchi una persona che conosco alla quale vorrei fare un'intervista ponendogli cinque semplici domande per cominciare un attimo ad approcciarlo questo argomento. Non esiste solo la cosiddetta scienza medica. Esiste l'astrofisica. Perdonatemi se sto qui a darvi lezioni. Non vorrei perché a me non mi piace insegnare, a me mi piace solo imparare. Ma ragioniamo con calma. L'Italia non galleggia da sola nell'universo. L'Europa non galleggia da sola nell'universo. Il pianeta Terra non galleggia da solo nell'universo. È un pianeta di miliardi e miliardi e miliardi e miliardi in una sola galassia. Di miliardi e miliardi e miliardi di galassie. E questo meraviglioso cosmo che ci circonda ha le sue regole, le sue leggi, che appunto vengono studiate dagli astrofisici. Sta succedendo qualcosa nei cieli, ok? Sta succedendo qualcosa al sole, sta succedendo qualcosa ai pianeti che ci circondano e sta succedendo qualcosa anche al nostro stesso pianeta sul quale noi ci stiamo. E sapete una cosa? Noi umani siamo il covid del pianeta Terra. Oibo. Quindi si arriverà comunque al sovvertimento delle cose. Si arriverà comunque a un ribaltamento della situazione perché, sentite, sto respirando. mi ispiro. Mi ispiro e poi devo ispirare. Per forza! Non posso solo ispirare. Si chiama contrazione, espansione. Contrazione, espansione. Così funziona l'intero universo. Contrazione, espansione. Tutto si muove intorno a questo nostro pianeta. Così è la nostra vita. Così in basso, così in alto. D'accordo? Quindi noi stiamo vivendo un momento di contrazione. Sempre più contratti, sempre più contratti. Non sentite la contrazione? No! Io penso di sì. La sentite, anche se non l'ha capita a livello razionale. Qualcosa dentro di voi, laggiù, laggiù nel profondo, vi dice, vi sapete che sto dicendo la verità. Bene, questa contrazione che stiamo sentendo a un certo punto dovrà diventare espansione. Per leggi della fisica. Per leggi della termodinamica. Quindi, ora vi saluto. Vi lascio in descrizione il primo link. Per cominciare ad andare a curiosare un pochino. Capire che non c'è soltanto quello che raccontano in mainstream. Capire che forse anche tutte le parole che stiamo facendo non servono a nulla, comprese quelle che sto dicendo io. Però una cosa è certa. Ci sarà il sovvertimento. Qui Radio Londra. Aldo dice 26 per 1.